Ciao a tutti, siamo sul lago di Garda e più precisamente nella frazione di Cisano di San Felice del Benaco per vedere la grande panchina gialla, la numero 101 di un gran numero di installazioni sparse in tutta Italia. Everybody, we are at Le Garda and more precisely in Cisano di San Felice del Benaco to see the big yellow bench number 101 of many installations scattered throughout Italy. Cisano di San Felice del Benaco dista solo una decina di minuti in auto da Salò e pochissimi minuti da San Felice del Benaco. Cisano di San Felice del Benaco is only about 10 minutes by car from Salò and a few minutes from San Felice del Benaco. in mezzo agli urivi, un punto di entrare, mirare un passaggio qua? prima di andare a vedere la panchina gigante conosciamo qualcosa in più del borgo di Cisano. Mi vorrei vedere la panchina gigante, saperemo qualcosa di più del borgo di Cisano. L'insediamento di Cisano risale presumibilmente al XVI secolo, anche se il borgo è sicuramente più antico. Infatti troviamo il suo nome in un documento dell'anno 958. The settlement of Cisano dates to the 16th century, even if the village is certainly older. We find its name in the document from the year 958. La comunità di Cisano era dedita all'agricoltura, forse per questo si sentiva più legata a San Felice che non a Salò, quest'ultima capoluogo della magnifica patria e residente di notabili e commercianti. Those living in Cisano were devoted to agriculture, for this reason it felt more linked to San Felice than to Salò, which was the capital of the Magnifica Patria, and the residence of notabili and merchants. of the Cisano. Ok, this is our path, let's go! Grande Pankina! Gentili visitatori! Il parco della Fondazione Raffaele Cominelli è curato da anni con amore e dedizione del gruppo Scouta Genshi Salò 1. Vi raccomandiamo pertanto il rispetto del luogo, delle persone e delle cose che incontrerete e troverete in questo magico bosco. Ok! Wow! La panchina gigante, come da progetto del Big Bench Community Project, deve essere posizionata in un luogo panoramico, contemplativo e lontano da case, strade e palazzi. La panchina gigante gialla è facile da raggiungere. La panchina gigante gialla è facile da raggiungere. You just have to take a pleasant and short walk among the olive trees and follow the signs. Sì Sì Il luogo dove la panchina gigante 101 è collocata Si offre un punto di osservazione privilegiato sul Golfo di Salò, sulla riviera di Gardone e sulle prealpi che cingono l'Alto Lago Ora godiamoci la panchina gigante ed il bel panorama Salire su questa panchina ti offre tanto divertimento come puoi vedere anche alla fine del video ma anche del buon relax Getting on this bench offers you a lot of fun As you can see at the end of the video And good relaxation Ciao ciao Cosa ti è successo? Mi sono vimpicciolito What happened? I'm a midget now 3, 2, 1 Go! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.